Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, 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 cari signori, cari signori, cari signori, è il 25 luglio e oggi, 25 luglio 2019, ricorre il 76esimo anniversario di uno dei giorni più fatidici della nostra storia, ovvero sia il 25 luglio 1943, la seduta del Gran Consiglio del Fascismo che segna la fine del regime fascista, che segna la fine del ventennio, che segna la fine del potere di Mussolini. Allora, il 25 luglio 1943 viene indetta una, insomma, c'è questa famosa assemblea, questa famosa riunione del Gran Consiglio del Fascismo, dove viene presentato un ordine del giorno a dir poco terremotante. Perché? Perché Dino Grandi, ex ambasciatore a Londra e presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, presenta un ordine del giorno in cui è scritto così. Il Gran Consiglio del Fascismo, riunendosi in questi giorni di supremo cimento, volge innanzitutto il suo pensiero agli eroici combattenti di ogni arma che, fianco a fianco con la fiera gente di Sicilia, in cui più alta risplende l'univoca fede del popolo italiano, rinnovano le nobili tradizioni di streno valore e di indomito spirito di sacrificio delle nostre gloriose forze armate. Esaminata la situazione interna e internazionale e la condotta politica e militare della guerra, proclama il dovere sacro per tutti gli italiani di difendere ad ogni costo l'unità, l'indipendenza, la libertà della patria, i frutti dei sacrifici e degli sforzi di quattro generazioni dal risorgimento ad oggi, la vita e l'avvenire del popolo italiano. Afferma la necessità dell'unione morale e materiale di tutti gli italiani, in quest'ora grave e decisiva per i destini delle nazioni. Dichiara che a tale scopo è necessario l'immediato ripristino di tutte le funzioni statali attribuendo alla Corona, al Gran Consiglio, al Governo, al Parlamento, alle corporazioni i compiti e le responsabilità stabilite dalle nostre leggi statutarie e costituzionali. Invita il Governo a pregare la maestà del Re, verso il quale si rivolge fedele e fiducioso il cuore di tutta la nazione, affinché egli voglia, per l'onore e per la salvezza della patria, assumere con l'effettivo comando delle forze di terra, di mare e dell'aria, secondo l'articolo V dello Statuto del Regno, quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a lui attribuiscono e che sono sempre state in tutta la nostra storia nazionale il retaggio glorioso della nostra augusta dinastia di Savoia. Eccolo qua. Ecco qua. Dalla seconda guerra mondiale di Arrigo Petacco, terzo volume, il testo originale dell'Ordine del Giorno Grandi. Eccolo qui. Con le foto, con le firme dei gerarchi. Insomma, un documento rivoluzionario, un documento scioccante, scoinvolgente, perché dopo vent'anni di fascismo lo stesso fascismo chiede alla Corona di riassumere i pieni poteri che la Corona aveva delegato al regime nel corso dei vent'anni precedenti. scioccante. Insomma, che dire? Un documento storico importantissimo, un documento storico fondamentale. Il fascismo, travolto dai suoi stessi errori, travolto dalla sua stessa catastrofica condotta, cerca di salvare se stesso, cerca di salvare i residui del proprio potere, cerca di salvare il salvabile in una situazione a dir poco catastrofica. Perso l'impero, persa la Libia, prigionieri i nostri uomini in Tunisia, una situazione nei Balcani a dir poco incancrenita, la Sicilia invasa, la Russia, la campagna di Russia conclusasi con una sanguinosa disfatta. insomma, che vi posso dire? Le cause della decisione di silurare Mussolini da parte dei suoi stessi gerarchi partono da qui. L'ansia dei gerarchi di salvare il salvabile, di salvare innanzitutto il proprio potere, di salvare innanzitutto il regime che avevano contribuito a fondare. L'idea era quella di privare Mussolini della conduzione della guerra e affidarla a chi? Al re, che secondo lo statuto albertino era il comandante supremo delle forze armate italiane. Praticamente la riunione, come dire, diciamo che il Gran Consiglio del Fascismo si riunì alle 17 del 24 luglio, un sabato. nessuno, ad eccezione dei soliti privilegiati come giornalisti, burocrati e così via, era al corrente della riunione e neanche si poteva immaginare quello che sarebbe accaduto. D'altra parte nemmeno Mussolini, a quanto pare, riuscì a immaginarlo, benché fosse tra i più informati, perché come accennato Grandi gli aveva spiegato quello che avrebbe detto e l'ordine del giorno che avrebbe presentato. L'unico veramente consapevole di tutto, ci scrive Petacco, era proprio lui, Grandi, che arriva alla riunione con un paio di bombe a mano in tasca. Ecco, prima della riunione i convenuti parlottano fra di loro, cercando di mostrarsi disinvolti, ma in realtà erano tutti preoccupati e imbarazzati, ma non per quello che stava per accadere, bensì per l'ultima notizia appresa, arrivata dal fronte. Palermo era stata occupata dagli americani. La famosa battuta di Patton, ho detto, mi ordinano di non marciare su Palermo. Avvisate l'alto comando che restituisco Palermo ai tedeschi. Ok, va bene. Allora, la riunione comincia in orario con la relazione del Duce che parla ovviamente dell'andamento della guerra. Il tono di Mussolini è quello di un ragioniere al quale i conti non quadrano senza che sia riuscito a trovare l'errore. Mussolini getta un po' di colpa e di fango su tutti, come sua abitudine, sugli italiani che sono apatici, sui generali che non capiscono niente, sui soldati che non resistono davanti al nemico, tipo in Tunisia. Vabbè, lasciamo perdere. Tipo in Tunisia o tipo durante l'operazione Piccolo Saturno. Caro Duce, vabbè, 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 vabbè. Di tanto in tanto getta là una frase furbastra e ammiccante. Diceva, Pantelleria l'ho inventata io, fino al 35 non la conosceva neanche la polizia. Ma l'umorismo troppo facile richiede ascoltatori servili, mentre nella sala del Gran Consiglio nessuno se la sente di scoprirsi troppo. Il Duce espone una dettagliata sintesi dell'andamento della guerra, per concludere che se le cose sono giunte al punto in cui sono, la colpa non è certo sua. L'incapacità di Mussolini di assumersi le sue responsabilità. Un grande classico. La marcia su Roma lui la fece a Milano, pronto a partire in Svizzera. Il ridotto della Valtellina? Sì, vestito da tedesco per raggiungere sempre la Svizzera, perché a Benito la Svizzera piaceva. Vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare. Solo Stalin e il cado, dice Mussolini nel verbale, possono dar l'ordine di resistere fino all'ultimo uomo. Allora, rivela che Pantelleria si è arresa dopo che il comando dell'isola aveva annunciato che ogni difesa era divenuta impossibile. C'erano stati appena 38 morti, mentre altri 11.000 soldati si erano fatti prendere prigionieri. L'autodifesa del Duce, continua Petacco, è come il suo solito, come da carattere del personaggio, pedante e pignola e il processo è aperto per tutti, tranne che per se stesso. Badoglio, disfattista, Rommel, che aveva fatto un sacco di errori, si era preferito non tentare di occupare Gibilterra, lo Stato Maggiore aveva preso un sacco di abbagli, tipo l'invasione della Grecia, Cavalier Mussolini. Vabbè, lasciamo stare. L'esposizione scrive nei suoi diari Bottai e lascia in me e non solo in me un senso di imprecisione, di voluto equivoco, di falsificazione più o meno cosciente. Mussolini non era più padrone di se stesso, Mussolini era da tempo ormai prigioniero della propria propaganda, Mussolini si era volutamente isolato dal resto del mondo in una solitudine fatta di, come dire, belle idee, belle parole, di proclami roboanti ma vuota quanto mai di fatti e contenuti. Un uomo solo al comando, un uomo disperatamente solo al comando, un uomo solo al comando che non sa che cosa fare perché non ne ha le competenze e le capacità, un uomo che ha chiesto troppo a se stesso, illudendosi di essere quello che non era, cioè un condottiero, un capo militare, un uomo forte e deciso. Che vi posso dire? la vita di Mussolini parla chiaro. Continua il diario di Bottai. Il, allora, dicevo, Bottai scrive, insomma, dice che semplicemente Mussolini pare non rendersi conto di quello che sta accadendo in quel giorno lì e sembra non rendersi nemmeno conto della piega che ha preso la guerra. L'ultima parte della relazione di Mussolini dice è pace o guerra? Dichiaro nettamente l'Inghilterra non fa la guerra al fascismo ma all'Italia. L'Inghilterra vuole un secolo davanti a sé per assicurarsi i suoi cinque pasti. Vuole occupare l'Italia e tenerla occupata. E poi noi siamo legati ai patti. Pacta sunt servanna. Allora, l'ossessione di Mussolini per gli inglesi. Mussolini nel 1943 non si era reso minimamente conto che gli inglesi ormai nell'alleanza con gli americani e i russi non contavano più niente. Quindi Mussolini, la dimostrazione che Mussolini era letteralmente fuori dal mondo e non aveva idea di quello che stava accadendo nel mondo e nell'ambito delle vicende belliche è in queste parole. Cioè lui parla dell'Inghilterra, i cinque pasti al giorno dell'Inghilterra, l'Italia, l'Italia che l'Inghilterra voleva asservire per un secolo eccetera eccetera. Ci sono i deliri di un uomo che non ha più il controllo di sé, di un uomo che non sa più che cosa dire perché non si è minimamente reso conto che nel 1943 oramai le redini dell'alleanza tra Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica sono nelle mani di americani e russi. Sono Roosevelt e Stalin a menare le danze. Churchill è solo un comprimario ormai, anche se un comprimario di primissimo piano che ha ancora un certo peso, ma l'Inghilterra non è più già da tempo quella che Mussolini descrive. Chiaro? Allora, il finale è a effetto ma i presenti conoscono i trucchi del mestiere. Quello che ha parlato non era né un trascinatore di popoli, che Mussolini sapeva essere, insomma un mestiere che Mussolini conosceva molto bene, né uno stratega, cosa che Mussolini non è mai stato, né un grande statista. Anche qui, anche qui Mussolini non è mai stato un grande statista. Ma un giornalista in vena di facili effetti. Il giornalista Mussolini racconta le cose come giornalista, in questo caso cercando il colpo ad effetto, fidando nella sua abilità di grande giornalista. Perché, diciamoci la verità, Mussolini è stato realmente uno dei più grandi giornalisti della storia d'Italia. Come giornalista Mussolini era indubbiamente uno dei migliori. Poco da dire e poco da fare. Che vi posso dire? Non sono certo io a scoprirlo, non sono certo io a inventarmi queste cose. Allora, il secondo a prendere la parola è il quadrunviro De Bono, il vecchio maresciallo Emilio De Bono. De Bono mette alcuni puntini sulle i e chiarisce alcune cose. L'esercito non ha tutte le colpe. Esatto. E sullo stesso tema prende brevemente la parola anche De Vecchi di Valcismon, quello che ci aveva garantito una facile vittoria in Grecia. De Vecchi, bell'elemento, De Vecchi. Vabbè, De Vecchi di Valcismon accenna alle frustrazioni dei quadri dell'esercito e in pratica però il dibattito sta molto alla larga dai temi principali che vengono direttamente affrontati dal terzo intervento di un delegato, ovvero sia Bottai. Bottai, una delle menti più brillanti, uno dei personaggi più brillanti, più intelligenti, del regime fascista. Il nemico, dice Bottai, sta invadendo il paese e l'Italia si mostra tecnicamente indifendibile. La stessa relazione del duce conferma questo stato di cose e costituisce una ben dura mazzata sulle nostre ultime illusioni o speranze. D'altra parte è chiaro che tra la direzione politica e quella militare del paese sentite bene questa. Non v'è organica connessione, non v'è accordo, non v'è armonia ed è evidente che la parte politica del comando non ha sulla parte tecnica l'ascendente necessario a imporre le sue decisioni. Bottai punta il dito contro le responsabilità dell'uomo solo al comando. Troppo tardi Bottai, troppo tardi, dovevate farlo prima. Vabbè, che vi posso dire? Bottai che è sempre stato considerato un po' l'ideologo, un po' la coscienza critica del fascismo. Leggersi a proposito la bella biografia di Giordano Bruno Guerri su Bottai, un fascista critico. Direi, dicevo, Bottai parla con calma, guardando dritto negli occhi l'uomo in cui ha ciecamente creduto per tanto tempo e che ormai considera un fallito. Perché quello era Mussolini il 25 luglio 1943. Un fallito. Mussolini aveva fallito tutto nel 1943. Il fascismo e Mussolini avevano clamorosamente fallito a livello sociale, a livello economico, a livello militare, morale e politico e sociale. Il fascismo si era dimostrato il 25 luglio 1943 fu la dimostrazione del clamoroso fallimento del fascismo. Bottai conclude dicendo che all'attacco nemico contro la penisola l'Italia oppone un apparecchio di comando inefficiente. Ed è questa la prima bordata contro il Duce. Perché Mussolini ha preteso il comando supremo delle forze armate per gestire la guerra con criteri personali. I gerarchi ora lo ritengono personalmente responsabile della situazione. E insomma, siamo sinceri, i gerarchi il 25 luglio avevano ragione a ritenere Mussolini personalmente responsabile della catastrofe della guerra. Perché era stato Mussolini a volere la guerra, a gestirla e a, come dire, mandarla avanti nella maniera disastrosa che noi sappiamo. Compass. Non è tutta colpa di Graziani, Compass. Ok? La campagna di Grecia, quella sì che è tutta colpa di Mussolini. La campagna di Grecia fu colpa di Mussolini e lo sappiamo bene. Ci sono i documenti, ci sono le parole stesse del Duce. C'è il comportamento del nostro esercito, insomma, c'è il comportamento delle nostre forze armate, il comportamento della classe politica nella campagna di Grecia, che dimostrò che mise a nudo pesantemente i clamorosi fallimenti del fascismo, per non parlare poi di quello che accade in Russia, dove il nostro esercito perse il nervo delle proprie forze. E ora, 25 luglio 1943, i gerarchi chiedono conto di questo al Duce, chiedono che il Duce si prenda le sue responsabilità nella catastrofe, altro che dare la colpa agli altri comandi o ai soldati. Eh, sì, perché per Mussolini la colpa delle disfatte era sempre degli altri, non era certo colpa sua che aveva spinto il paese in guerra nella speranza di un facile bottino giocando un sanguinoso blef sul tavolo da poker della storia, perché quello era l'Italia in guerra nel 1940, un blef, un blef azzardato, molto azzardato, un blef rischiosissimo che costò molto caro al popolo italiano e all'Italia. Perché Mussolini, anche nella riunione del 25 luglio, rifiutò di prendersi carico delle proprie responsabilità nella catastrofe, mentre i gerarchi gli chiedevano di farlo. Mussolini, prenditi le tue colpe, assumiti le tue responsabilità. E Mussolini si fa la colpa degli altri. Va beh, un grande classico, insomma. Allora, poi prende la parola Dino Grandi, ex ambasciatore a Londra. Allora, Grandi legge l'ordine del giorno che vi ho presentato prima, questo qui, e invita il Duce a pregare il re di assumere con l'effettivo comando delle forze armate, secondo l'articolo 5 dello statuto, quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a lui attribuiscono allora. Grandi spiega il suo documento, spiega il suo ordine del giorno e dice tu stesso, caro Benito, caro Mussolini, gli dice hai ammesso l'inevitabilità della sconfitta, tanto vale che tentiamo il tutto per tutto. Tra l'altro, continua Grandi, è chiaro che la responsabilità di quanto è accaduto è proprio tua, è proprio tua. Sei tu, Mussolini, che hai imposto la formula ristretta e imbecille della guerra fascista che ha impedito la mobilitazione totale degli spiriti. Ma qui, aggiunge Petacco, una dittatura personale durata così a lungo non poteva non avere conseguenze deleterie su tutto il paese. Ora è venuto il momento di tirarsi da parte per il bene dell'Italia. A questo punto il dibattito non ha più storia, ci sono alcuni interventi di Ciano, il duce Farinacci, il maldestro imbecille, come lo chiamava Goebbels, presenta un suo ordine del giorno in cui ribadisce la necessità di tenere fede ai patti con l'alleato tedesco. Il duce cerca di rinviare il dibattito all'indomani, ma Grandi si oppone. Mussolini stesso annuisce, diceva che ammise finalmente questa sua mossa di sono stanco, riprendiamo domani, era una mossa decisamente puerile. Allora, verso mezzanotte si sospende la seduta. Quando il duce prende visione di alcuni disparsi dal fronte che si sono accumulati sulla sua scrivania, Grandi approfitta della pausa per sottoporre l'ordine del giorno ai colleghi, invitando chi ancora non lo ha fatto ad apporvi in calce la firma. Oramai sul documento si è già riversata la maggioranza, mai più ritengono che esso servirà come mezzo di pressione sul duce e che non si arriverà evidentemente a metterlo ai voti. Perché mai Mussolini dovrebbe mettere ai voti un ordine del giorno dal quale uscirebbe sconfitto? Ma qui non facciamo i conti con la confusione mentale del duce. Alla ripresa del dibattito Mussolini appare pallido e stanco. Sembra avere valutato anche con l'aiuto dei consiglieri più fedeli la gravità della sua situazione. Prende la parola in chiusura di dibattito e lo fa in maniera infelice e sgradevole senza avere un minimo di fair play. L'uomo è abituato ad avere sempre ragione e non sopporta le critiche. Un dittatore non può ammettere di essere messo in discussione. Che cosa credono i gerarchi? Che il re lo butterà a mare per vent'anni? Lui lo ha servito lealmente e il re gli ha dato anche recentemente prove in dubbie della sua amicizia. Benito sveglia se ne raccorta persino tua moglie. Sì perché quando andò al gran consiglio Rachele gli urlò Benito non andare falli arrestare tutti. Mussolini non se ne diede per inteso. Poi fa una conclusione piuttosto oscura e poi io ho in mano una chiave per risolvere la situazione bellica ma non vi dirò quale. Scusate io ho in mano qualche cosa per risolvere la situazione bellica disperata e disastrosa ma non vi dirò quale, non vi dirò che cos'è. Signori qui siamo veramente nel regno dei bimbi minchia. Cioè se non fosse il solo pensiero che un uomo così è stato affidato, è stata affidata alla conduzione di una guerra nella quale sono morti quasi mezzo milione di soldati italiani. Insomma signori, 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 che vi devo dire? Io ho in mano una chiave per risolvere la situazione bellica ma non vi dirò quale. Vabbè, credo che la mia faccia dica tutto. Vabbè, che vi devo dire? Allora, l'affermazione sembra veramente poco credibile a tutti. L'artifizio è scoperto e nessuno accetta l'umiliazione. Incredibilmente l'ordine del giorno grandi viene messo ai voti. Scorza fa l'appello e quelli che l'approvano sono la maggioranza. Acerbo, Albini, Alfieri, Valella, Bastianini, Bignardi, Bottai, Cianetti, Ciano, De Bono, De Marsico, De Stefani, De Vecchi, Federzoni, Gottardi, Grandi, Marinelli, Pareschi, Rossoni. Rispondono di no Biggini, Buffanini Guidi, Frattari, Galbiati, Polverelli, Scorza e Tringali. Farinacci vota per il proprio ordine del giorno. Il solito maldestro imbecille, quello che vota se stesso. Vabbè, lasciamo perdere. Su Ardo invece si astiene. Sono le 2.30 quando la seduta viene tolta. Riordinando le proprie carte, Mussolini, Borbotta, che con questa votazione il regime è stato colpito al cuore. Poi facendo al segretario del partito, a Scorza, di non lanciare il solito saluto al duce. Allora, dicevo, il duce poi indugiò un po' alla sua scrivania nella grande sala del mappamondo. Per un po' gli fecero compagnia Scorza, Buffarini, Tringali Casanove, che era presidente del Tribunale Speciale, Biggini e Galbiati, comandante della milizia. E che cosa fa Mussolini al posto di muovere le leve del suo potere per eliminare gli oppositori? Che cosa fa? Che cosa fa? Parla con, insomma, c'era Scorza il segretario del partito che in base ad un suo ordine avrebbe potuto fare qualche cosa mobilitando gli organi del partito. La milizia si sarebbe mobilitata in nome del duce su ordine di Galbiati. Ma non ci fu niente da fare. Ognuno cercò a suo modo di consolare il duce per la sconfitta e Galbiati domandò se doveva ordinare ai suoi uomini di arrestare Grandi e i sediziosi. L'unico che poteva pensare di arrestare, insomma, che poteva pensare di fermare lo sfacelo, agire, fare qualche cosa. Niente, niente. Mussolini scosse la testa. Scorza disse che il voto era solo consultivo e che non avrebbe avuto quindi nessun peso costituzionale. Oibo, 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 oibo. Si andò avanti per un poco Mussolini che ascoltava con aria assorta e assente e sembrava seguire altri pensieri con quell'apatia che aveva manifestato nel corso di riunione. A un certo momento telefonò a Bologna per avere notizie del bombardamento. Poi congedò tutti con un gesto e Scorza fu invitato ad aspettare in anticamera. Mussolini telefonò a Claretta Petacci che stava aspettando la chiamata ed era in ansia perché la riunione andava per le lunghe. Il duce disse che si era arrivati ormai all'epilogo, alla più grande svolta della storia. La Petacci si allarmò e disse ma Benito che hai non capisco. La stella si è oscurata, spiegò Mussolini con tono enigmatico. Non tormentarmi, spiegami, invocò Claretta. E lui insistì, è finito tutto. Ma non credeva a quello che diceva. Era sicuro che il re sarebbe stato dalla sua parte e che gli sarebbe stato impossibile sostituirlo. Il re invece aveva già preparato tutto e il giorno dopo Mussolini fu arrestato dopo essere andato, diciamoci la verità, molto stupidamente a cacciarsi nelle mani dello sciaboletta Bagonchi. Mussolini il giorno dopo pensava di essere stato soltanto esautorato, cioè lui pensava di restituire i portafogli militari. Ricordiamoci che Mussolini era ministro della guerra, ministro della marina e ministro dell'aeronautica e che la conduzione dello sforzo bellico italiano era esclusivamente nelle sue mani. Mussolini pensava di cedere i portafogli militari e la responsabilità militare della guerra nelle mani dello sciaboletta Bagonchi che però furbo, contorto e diciamo tortuoso com'era aveva trovato la scusa per togliere di mezzo l'illuso Mussolini. Era da marzo che il re cercava una scusa, un aggancio, un appiglio, un qualcosa per eliminare politicamente Mussolini. Il Gran Consiglio del Fascismo gli diede il destro, gli diede il gancio, gli diede l'occasione di togliere di mezzo quello che per vent'anni era stato l'uomo più potente d'Italia. Alle sette di mattina del 26 luglio Mussolini si comporta come se niente fosse, come se niente fosse accaduto. Prende, fa colazione, sale in macchina e si fa portare a Palazzo Venezia. Mussolini aveva un appuntamento con l'ambasciatore giapponese Ikada e non voleva mancare perché contava sul Giappone per premere sulla Germania affinché Hitler giungesse ad una rapida pace separata con l'Unione Sovietica. Niente da fare, Mussolini proprio non ci arrivava al fatto che Hitler di una pace separata con i sovietici non ne voleva sapere. Non capì mai Mussolini che razza di persona era Hitler. Non lo capì mai, non lo volle capire. Rimase fregato. Che vi devo dire? Succede. Allora, in tal caso, dicevo, in caso di una pace separata con l'Unione Sovietica, i tedeschi si sarebbero maggiormente impegnati in Italia e ciò avrebbe risolto tutte le crisi. Ennesima illusione mal riposta di un uomo che oramai non riusciva più a connettersi con la realtà oggettiva dei fatti. Siamo sinceri. Chiedendosi Mussolini, pensando a quanto era accaduto alla riunione del Gran Consiglio, diciamo che era indotto, si induceva da solo a sottovalutare l'accaduto. Pensava che tra i suoi oppositori nessuno fosse in grado di subentrarli. Il re, secondo Mussolini, non aveva scelta e poi non era forse suo amico. Mussolini, 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 Benito, Cavalier Benito, Cavalier Benito, cioè fidarsi di un Savoia, non dare retta a scorza per far arrestare grandi gli altri, non dare retta a Galbiati per muovere le leve del potere. Ricordiamoci una cosa, come vedremo, il fascismo si fece liquidare in un batter d'occhio, perché Mussolini non seppe, come sempre, nei momenti di gravità estrema, non seppe prendere una decisione rapida, non seppe capire che il problema era grave, che l'affare era estremamente serio. Non lo volle capire, perché per lui dopo vent'anni di assoluto potere, dopo vent'anni di solitudine al potere, era diventato praticamente impossibile pensare che qualcuno volesse fargli le scarpe. Eppure, 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 eppure questo stava accadendo. Allora, Mussolini chiese udienza al re, il re gli disse venga alle diciassette, praticamente il duce, come dire, insomma il duce si fece di accompagnare a Villa Torlonia, dove parlò con la moglie, dove Rachele lo supplicò di non andare all'udienza con il re, e praticamente, come dire, Vittorio Emanuele III aveva già preparato tutto e il generale Puntoni ricevette dal re l'ordine tassativo che, siccome non so come il duce potrà reagire, la prego di rimanere accanto della porta del salotto dopo che noi ci riteneremo a discutere. in caso di necessità intervenga. Puntoni aveva la pistola col colpo in canna in mano. Allora, non ci fu bisogno di nessun intervento perché Vittorio Emanuele III comunicò al duce la decisione di sostituirlo con Badoglio e il duce parve colto di sorpresa e non ebbe nemmeno la forza di argomentare un'obiezione seria. Di colpo il dittatore che aveva progettato una civiltà, millenaria, si ritrovò un presidente del consiglio qualunque. Allora tutto è finito? chiese. Tutto è finito. E che sarà di me e della mia famiglia? Il re, che aveva un generale dietro l'uscio e un centinaio di carabinieri in giardino, rassicurò Mussolini circa la sua incolumità. Poi si alzò e lo accompagnò all'ingresso. Chiese dov'è la macchina del duce. Va bene. 17 e 20. Si fece avanti, non appena Mussolini uscì dalla porta di Villa Savoia, si fece avanti un ufficiale dei carabinieri che si mise sull'attenti e gli disse, duce o l'ordine di suo mestiere re, di accompagnarvi per proteggere. Mussolini si volse e vide che il suo amico, il re, era sparito. Percorse all'aperto in pieno sole alcuni passi e si trovò davanti un'ambulanza aperta. Praticamente Mussolini fu caricato su un'ambulanza e sparì senza lasciare notizie. La regina Elena di Montenegro disse che il re aveva tradito il concetto dell'ospedalità e disse che potevano restarlo altrove. A Villa Torlonia, Rachele Mussolini aspettò in vanno il ritorno del marito. Scorza aspettò a lungo qualche notizia, ma sembrava che il duce non uscisse più da Villa Savogna. A tarda sera, dalla radio, apprenderanno che il cavalier Benito Mussolini aveva rassegnato le dimissioni e che il ventennio fascista era finito. L'avrebbero appreso insieme con milioni di italiani che si riversarono per le strade a manifestare la loro gioia, benché Badoglio avesse annunciato che la guerra sarebbe continuata. insomma. Ah, piccola curiosità. Arrigo Petacco ha ricostruito con una piantina la plausibile scena dell'arresto del duce. Vittorio Emanuele, come dire, Vittorio Emanuele che fa piazzare l'ambulanza su cui salire il duce, i carabinieri di scorta, l'auto di Mussolini e tutto l'apparato di sicurezza attorno a Villa Savoia. Insomma, una ricostruzione che spiega come avvenne l'arresto di Mussolini. Insomma, ne emerge un quadro desolante, il fascismo dopo vent'anni di assoluto potere liquidato in mezz'ora, si può dire o poco più, senza che nessuno osasse muovere un dito per salvare il re, per salvare Mussolini, per liberarlo dagli arresti in cui lo aveva messo il re. Mussolini stesso che non si rende conto di quello che gli sta per accadere. Se ne era resa conto sua moglie che la sera del 24 luglio gli disse Benito, la sera del 25 luglio scusate, gli disse Benito arrestali tutti, perché in base alla sua rete di informatori Donna Rachele sapeva che c'era qualcosa che stavano tramando contro il Duce. Donna Rachele viene spesso descritta come l'innocua sdora romagnola che faceva da moglie e angelo del focolare al Duce, ma in realtà Rachele Guidi Mussolini era una donna intelligente, caparbia, testarda e soprattutto molto abile, che aveva un suo molto efficiente servizio di informazioni personali. Qualche cosa lei aveva capito. Il Duce no. Disse Benito arrestali tutti. Benito non gli dette retta. Benito non andare dal re. Benito andò dal re e rimase fregato così. Che vi posso dire? La miseria, il misero fallimento umano, politico, morale, materiale, militare e economico del fascismo emerge in tutta la sua crudezza il 25 luglio. 20 anni di assoluto potere dissolti in pochi minuti, senza che nessuno facesse niente per salvare il Duce. Scorza, segretario del partito, si affrettò una volta proclamato, come dire, una volta che Badoglio proclamò la sua salita al governo. Scorza si lanciò di corsa a offrirgli i servigi del partito, si può dire. Galbiati, comandante della milizia, comandante delle camicie nere. Vuoi fare qualcosa per trovare il Duce? No. Consegnò praticamente nelle mani dell'esercito la milizia, le camicie nere. Tutto qua. La miseria, lo squallore, la tristezza, il fallimento del regime è tutto qua. Il 25 luglio 1943. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio per l'attenzione. Come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate. Come sempre, come sempre, come sempre, commentate, 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 commentate. Come sempre, arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao!